SANTO PADRE Vabbè fa c'era una benedizione ce la potete pure fa SANTO PADRE Buono Santo Padre A sorpresa ieri il papa è arrivato verso le 19 Ha varcato la storia del negozio ed è stato un incontro meraviglioso Ma il tempo di salutarci ha voluto pregare con noi Farci una benedizione a noi al negozio Una foto ricordo e è andato via Come mai proprio voi? Qual era la precedente frequentazione? Il papa veniva qui già prima ancora di diventare papa Era un nostro vecchio cliente Quando arrivava a Roma per andare al Vaticano Prima passava qui, faceva dei regali Come aveva promesso ha fatto una benedizione all'inizio Non posso... non ho parole... è un'emozione grandissima È un'emozione grandissima E un'emozione grandissima